Il Bomboloni di Michele Ioculano, da un racconto di Rocco Ruggero. Piazza Matteotti ha la forma di uno slargo a doppio imbuto, dritto o rovesciato, a secondo che si guardi da Largo Barone o da Piazza dell'Incontro. Agli inizi degli anni 50, quando il numero delle auto era ancora uguale a quello dei continenti, lo spiazzo era pressoché vuoto e il Caffè delle Rose era salotto e pollo d'attrazione della borghessia locale. Il 1 di mattina, giorno di mercato e in quelli infrasettimanali del primo pomeriggio, girovali e ambulanti, figure sghembe e macchiette singolari, calamitavano l'attenzione di nulla efficienti e perdi tempo, i quali in generale non avevano nulla da fare. In quegli anni il personaggio più straordinario di quello scenario fu Michele Ioculano, di media statura, occhi lucidi e neri, incarnato all'ivastro e baffe a virgola, attento e allerto come un suricato. Michele era capace di inventarsi le attività e i commerci più disperati. Durante l'estate si improvvisava gelataio, nei giorni festivi vendeva giocattoli e in quelli infrasettimanali frequentava fiere e mercati vendendo forbici, coltellini, utensileria e bomboloni. Tra le sue mille imprese, la più immanabile, quella che i ragazzi di allora o oggi ricordano, c'era la produzione appunto dei bomboloni. In primavera, nel primo pomeriggio, arrivava in piazza Mattiotti e montava un banchetto sul quale sistemava una specie di piccola betoniera riscaldata da un fornitino a gas. Accanto al banco una specie di bastone da flebo per stirare e rassodare il composto. Il coro della fiamma scaldava e amalgamava tutto, zucchero ed aromi. Quando l'impasto era pronto, lo agganciava al bastone a mo' di matassa, lo tirava e lo ristirava, fino a quando il caramellato non aveva raggiunto la consistenza desiderata. Durante il tiro e molla poteva succedere che la pasta si impeccicasse tra le dita. E allora Michele sputava sul palmo delle mani e vigorosamente le sfregava e ricominciava senza che nessuno dei presenti fecesse caso al trascurabile gesto. Oggi lo sputo non lo fanno più nemmeno i cinesi, sputatori incalliti, ma a quel tempo da queste parti lo sputo era un lontano parente dell'igiene, per la maggior parte sconosciuto di più. Terminata l'operazione Michele spezzava la ciambella, la batteva e la ribatteva fino ad ottenere una specie di bastone tagliato poi in pezzettini dello spessore di 3 cm per 4, ottenendo il cosiddetto bombolone, caramella di zucchero fuso venduta nelle fiere e nei mercati dell'Italia centro-meridionale. Gli aspettatori curiosi che avevano assistito alla complessa lavorazione dimentichi dello sputo, tiravano fuori qualche lira e mangiavano il bombolone ancora caldo. Quelli invenduti Michele li arrotolava in pezzettini di carta e li rivendeva in fiere e mercati. Per quel giorno era andata il domani svegliandosi Michele, volgeva lo sguardo al cielo e implorava «Signore mio, datemi il pane quotidiano». E quando il buon Dio era troppo occupato per ricordarsi di lui, allora Michele stornava lo sguardo dal cielo alla terra, afferrava la bancarella e la mini betoniera, il bastone da flebbo e via in piazza Matteotti a fare i bomboloni, dei quali i supertiti testimoni ricordano ancora oggi l'antico sapore. Sputo a parte si intende.